Io sono un grafico, io mi sono sempre definito per caso, perché quando ho finito le superiori siamo andati con mio padre in giro in centro a cercare la prima squadra più vicina perché bisogna andare a piedi, niente tram, soldi. E avvocato niente, quell'altro niente, finalmente ne abbiamo trovata una. Dove facevano i grafici, non sapevo neanche che cosa significasse, comunque mi sono iscritto lì. Primo ottobre vado, chiuso, scuola trasferita a Reggio Parco, per dire. Per cui mi sono sempre considerato grafico per caso, e meno male, perché il dentista mi faceva schifo, le radio e le televisioni mi faceva schifo, per caso è andata bene. Grazie.